Allora, i Litfiba sono dell'80, se non sbaglio. A Firenze, 1980, com'era la scena da cui emergono i Litfiba? Cioè com'era se andavate a suonare in locali, andavate a dire oh noi qua c'era un giro di pubblico, avete detto mo' facciamo la band perché c'era una scena di riferimento dentro cui inserirvi oppure dal nulla? Dunque, intanto va detto che Firenze negli anni, dal dopoguerra in poi è stata una città liberata dai partigiani gli inglesi che sono stati i primi a arrivare a Porta Romana lungo la via Cassia avevano trovato già una città liberata dai partigiani dell'Oltrarno che hanno pagato con più di 80 vittime compresi i bambini e quindi Firenze è una città che si è sempre considerata diciamo una città molto aperta a tutte le idee progressiste possibili l'area fiorentina ecco c'è stato anche Don Milani vicino nei dintorni la scuola di Barbiana che è diventata un po' un simbolo della pedagogia popolare per tanti insegnanti poi che sono arrivati dopo e si sta parlando di un prete cattolico non di un comunista baricadero cioè è uno che ha dato a tutti i figli dei contadini del Mugello la possibilità di studiare anche se le famiglie non avevano i soldi per mantenergli gli studi sono diventati ragionieri palignami insomma poi c'era a Firenze c'era la Pira che era un politico molto importante ma c'era anche poi tutto un movimento artistico e di cultura e di creatività che è andato avanti negli anni 50, 60 il primo locale gay d'Italia appunto il Tabasco a Firenze Firenze negli anni 70 era Woodstock cioè andava in centro da Piazza San Marco fino a Ponte Vecchio era una diciamo distesa continua di ragazzi che suonavano le chitarre fumavano i silo si scalavano acidi gente si bruciava anche il cervello però questo era un po' Firenze tanti intellettuali, tanti pittori poi negli anni 80 c'è stata l'esplosione tutto quello che si era gli anni di piombo a Firenze si sono sentiti molto meno anche ad esempio rispetto a Bologna Bologna ha avuto un 77 violentissimo Firenze no era un po' diciamo un'isola felice chiamiamola così che ha favorito anche l'espressione artistica ecco è stata proprio un po' una culla e quindi da lì da tutto quello che vi ho elencato ora e tantissime altre cose che la mia demenza incipiente non mi fa ricordare ma che esistono nella storia della città hanno favorito sono state l'humus perché poi negli anni 80 Firenze diventasse un po' una capitale culturale a livello europeo però nonostante tutto io respiravo sempre aria di provincialità provincialismo di provincia e allora ho detto ai miei compagni ho detto sentite allora io ho un'amica francese che studia belle arti a Firenze si è mollata col suo tipo le ho dato il nostro primo EP guerra col quale vincemmo l'unica cosa che abbiamo vinto nella nostra storia cioè il festival rock italiano qualche milione di anni fa e poi una cassetta con tanti provini questo ha detto io torno in Francia non ne posso più vuoi un turino mi ha preso per il culo mi ha portato i tossici a casa c'era tanta eroina anche a Firenze purtroppo mi ha portato i tossici a casa ha cambiato le chiavi di casa mi ha buttato fuori me ne torno in Francia ti ho ferma se proprio vuoi tornare ti do questa roba guarda se riesci a organizzare qualche concerto in Francia bah buttata un po' lì a cazzo però di fatto lei è diventata la nostra manager in Francia e nel giro di sei mesi organizzò una tournée di sei date era fine dicembre freddo bestia si partì con due macchine di merda una Peugeot e una Citroen ma cascana a pezzi non so come sia stato possibile tornare a casa e tra queste sei date c'erano due festival molto importanti dunque suonammo a Strasburgo non si Parigi o Bandouche dove andava anche Prince a suonare a fare i suoi after hours e poi Rennes dove c'era un festival importantissimo Transmusical di Rennes e io parlavo molto bene francese perché l'avevo studiato a scuola e mi piaceva la cultura francese ma questa cosa me l'aveva trasmessa mia madre che si stava per laureare e poi non l'ho mai fatto e quindi insomma avevo studiato più che altro la grammatica francese che è tipo quella italiana complicatissima verbi irregolari eccetera e e quindi io anche se noi facevamo New Wave in Fiorentina però io parlavo in francese col pubblico e questa cosa fu estremamente apprezzata dal pubblico e dalla critica per cui siamo diventati prima più famosi in Francia che non in Italia poi vabbè la storia ha raccontato un altro tipo di percorso però ecco Firenze era fantastica veniva per Vittorio Tondelli c'erano Marta Graham che veniva a fare la sua danza contemporanea era veramente una fuscina pazzesca però credo di aver fatto bene così a uscire comunque anche da questa questa culla un po' dorata perché quando uno poi si crociola un po' troppo in quello cioè le comfort zone non hanno mai fatto bene a nessuno ecco noi lì eravamo un po' gli eroi nel vento però ho preferito salire sul vento e andare un po' un po' più lontano ci ha fatto benissimo perché poi abbiamo fatto tre album pazzeschi Desparesi 27 Reli 3 che sono stati fondamentali per la mia formazione e scusa in Francia invece a questo punto cosa avete trovato cioè com'era poi il movimento le cose com'è andata l'esperienza francese là che scena con che pubblico vi confrontavate e con che cosa abbiamo cominciato a suonare nei piccoli club per cui c'erano 200 persone la seconda volta erano 400 poi poi 800 poi 1000 eccetera quindi è stato un po' il passaparola perché poi alla fine sì io andavo a fare tante interviste c'era Claude appunto che era bravissima mi portava in giro a fare tante interviste e quindi io portavo un po' tutto il mio bagaglio di cultura italiana che in quegli anni affascinava ancora molto i francesi perché per tanti aspetti erano affascinate alla cultura italiana no? c'era Paolo Conte in quegli anni che a Parigi riempiva lo Zenit o il teatro della Villette in continuazione noi chiaramente eravamo molto ma molto più underground e ci si divertiva tanto ecco sì tanto ci si divertiva sì 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 tanto non mi chiedere nulla per favore non ti chiedo ma hai girato cioè solo la Francia oppure anche altri paesi esteri in quei tempi diciamo che i paesi francofoni sono quelli che ci hanno accolto meglio quelli anglofoni no assolutamente e secondo te perché cioè perché risuonavate per i francesi e non per gli inglesi perché comunque voi cantavate in italiano ma senti a me da quando mi hanno cacciato fuori a calci nel culo dal Marquis a Londra perché mi ero tutto tagliato perché ero più punk di tutti i punk londinesi naturalmente ho detto no bella la musica bravi Sex Pistols bravi Clash Pink Floyd Genesis milioni di gruppi però questa parte di mondo non mi appartiene più di tanto sono fottutamente latino quindi mi sono trovato benissimo in Spagna in Francia in Canada sì Messico Messico bene Messico benissimo vedi come fai a non star bene cioè oggi in Messico non ci tornerei ecco no a un certo punto ho deciso di non andare più in Messico perché avevo degli amici molto cari nel DEFE il distrito federale cioè città del Messico e tutti i gazzi musicisti un po' artisti un po' come Parigi appunto nei primi anni 80 dove avevo visto nascere anche la mano negra negra Svert Noir Desir tutte bende pazzesche e in Messico uguale avevo ritrovato quell'atmosfera però dopo un po' hanno incominciato tutti sono passati direttamente dalla marijuana e magari qualche pay hotel alla cocaina e al crack e gli ho detto va bene non è più la storia per me e ho dovuto abbandonare il Messico oggi il Messico è in mano al narcotraffico purtroppo